Sul caso Bari, sono dicendo dei tratti inquietanti per il quale era evidente il minimo sindacale mandare l'ispezione e la guerra non è contro la città di Bari ma contro la mafia e questo governo sulla guerra alle mafie non si fa garantire. Non è quindi una vicenda politica nazionale con il centro... Ma lei pensa che se fosse accaduto in qualunque altro comune d'Italia che venivano arrestate 130 persone, che ci fosse un intervento del tribunale su un'azienda partecipata del comune non avremmo fatto così. Guardi, la verità è che noi sì abbiamo fatto un atto di guerra alla mafia e ne siamo orgogliosi.